Eccoci ad un nuovo appuntamento. Ti è mai capitato di commettere sempre gli stessi errori? Oppure di voler cambiare qualcosa nella tua vita ma di non riuscirci? Nel video di oggi ti spiego come migliorare la tua vita imparando dai tuoi stessi errori. Ciao io sono Angelo e sono uno psicologo. Oggi ti parlo di errori ed in particolar modo voglio spiegarti alcune strategie fondamentali per superare il fallimento e sfruttarlo per la tua crescita personale. Oggi ti parlerò di che cos'è veramente il fallimento e poi ti darò tre semplici ma potenti strategie per imparare dal tuo stesso fallimento. Ma prima di entrare nel vivo del video ti ricordo che in questo canale ti parlo di psicologia, autostima, crescita personale quindi se sei interessato a questi argomenti, se anche tu stai percorrendo la strada della crescita personale devi assolutamente iscriverti al canale e mi raccomando non dimenticare di cliccare sulla campanellina delle notifiche così non perderai nessun video. Ma adesso entriamo nel vivo e cerchiamo di capire che cos'è il fallimento. Ti ho parlato di questo argomento già in altri video. Se li hai persi ti lascio il link giù in descrizione. Molte persone vedono il fallimento come un evento statico immutabile. Molte persone hanno il terrore del fallimento perché credono che questo sia un giudizio, una valutazione sulle loro capacità o, peggio ancora, sul loro valore personale. Quando si interpreta il fallimento in questi termini, quando si vede il fallimento come un evento statico immutabile, la persona è pervasa da un senso di impotenza. Il fatto di non aver raggiunto l'obiettivo desiderato è visto come una condanna. Molte persone quindi nel momento in cui vivono, percepiscono un fallimento, si bloccano, rimangono ferme, spaventate dai propri stessi risultati. Quello che voglio fare oggi è invitarti ad osservare in maniera più attenta il fallimento. Capire che cos'è nella realtà ciò che noi etichettiamo con questa parola. Infatti noi diciamo che il fallimento è qualcosa di terribile, qualcosa di statico, una valutazione di noi stessi. La realtà è che il fallimento rappresenta il raggiungimento di un risultato non desiderato. Lasciami spiegarti meglio spiegandoti quello che rispose Thomas Edison ad una giornalista. Prima di arrivare ad inventare la lampadina, Edison fece migliaia di tentativi. Un giorno una giornalista gli chiese come mai non avesse lasciato perdere questo suo lavoro visto i numerosi fallimenti. Thomas Edison rispose che in verità lui non aveva mai fallito, aveva semplicemente trovato centinaia, migliaia di risultati che non funzionavano. Osserviamo bene il ragionamento che condivide con noi Thomas Edison con questa risposta. Egli ci dice che il fallimento non è un evento statico ma è semplicemente il raggiungimento di un risultato non voluto. Immaginiamo che noi abbiamo un risultato desiderato, il nostro obiettivo, quello che noi etichettiamo come fallimento nella realtà è un risultato non desiderato. La distanza che intercorre tra questi due punti noi lo etichettiamo come fallimento. Se noi cambiamo questa prospettiva, se noi osserviamo il fallimento come il raggiungimento di un risultato non desiderato, arriviamo anche a riflettere che questo, il fallimento, non è un giudizio sul nostro valore, bensì è il risultato delle strategie che noi abbiamo utilizzato. Passiamo quindi dal prendere questo evento spiacevole, da una valutazione delle nostre capacità, ad un'osservazione delle strategie. Puntiamo lo sguardo su qualcosa di modificabile, di qualcosa che possiamo migliorare. Ed è proprio da questo punto di vista che parte l'esercizio che voglio condividere con te oggi. Prima di condividere questo esercizio ti consiglio di prendere un foglio di carta ed una penna, così lo potrai fare in diretta con me. Per apprendere dai tuoi stessi errori puoi utilizzare tre passi fondamentali. Il primo passo è quello di analizzare. Analizza e osserva quali sono quelle strategie che ti hanno portato a raggiungere il risultato non desiderato. scrivi tutte le strategie mentali pratiche che hai utilizzato e che ti hanno portato a quel risultato. Davanti a te troverai un elenco quindi di azioni, di comportamenti. Il secondo passo che io ti consiglio di fare è di osservare le strategie che hai utilizzato. Chiediti quali di queste ti hanno realmente aiutato e che possono esserti utile per il raggiungimento del tuo risultato, del risultato desiderato e quali azioni invece si sono dimostrate controproducenti. Facendo quest'analisi riuscirai a scindere quali sono le azioni e comportamenti utili da quelli invece che ti hanno frenato o nella peggiore delle ipotesi ti hanno bloccato. In questa fase chiediti anche se hai necessità di apprendere nuove strategie, più informazioni, se hai tutte le competenze per raggiungere il tuo obiettivo. Chiediti se hai bisogno di un aiuto esterno o se hai bisogno di più tempo o di nuovi strumenti. Grazie a quest'analisi potrai andare ad implementare e ad accrescere il tuo bagaglio di strategia. Quando fai questo esercizio dedicali il giusto tempo. Ricordati che stai preparando il piano d'azione per raggiungere i tuoi obiettivi. Il terzo passo che io ti consiglio di fare è quello di agire. Hai davanti a te quelle azioni che sai che ti possono essere d'aiuto e in più hai fatto una riflessione su ciò di cui ha bisogno, sulle competenze e le strategie da implementare. Grazie a questo nuovo bagaglio di strumenti potrai muoverti per raggiungere il tuo obiettivo. Fare questo esercizio ti porta a vivere un circolo virtuoso di miglioramento. Perché seppure dovesse accadere che non raggiungi l'obiettivo desiderato, di conseguenza raggiungi un risultato non desiderato, potrai sfruttare questa esperienza per migliorarti ulteriormente. Grazie a questo esercizio potrai vivere il fallimento come un passo per il miglioramento. Lascia andare l'idea che il fallimento sia una valutazione, un'etichetta che dai a te stesso alle tue competenze e vedi questa situazione, la situazione fallimentare, come un momento per la tua crescita personale. Spero che questo video ti aiuti ad apprendere dai tuoi stessi errori, a cambiare la percezione del fallimento e a migliorare. Se hai delle domande, delle curiosità, tranquillamente puoi scrivermi nei commenti. Ti ricordo che puoi seguirmi anche su Instagram e Facebook. In aggiunta qui troverai un video sul fallimento, mentre qui potrai iscriverti al canale. Mi raccomando fallo e ci vediamo al prossimo appuntamento.